Ci sono stati giornalisti che si sono esercitati per mesi e per anni nel tentativo di dividere. Salvini dice A, Giorgetti dice B, Salvini c'è il calzino giallo, Giorgetti c'è il calzino verde, Salvini guarda destra, Giorgetti guarda sinistra. Fatevene una ragione, su questo palco c'è una squadra, una famiglia, una comunità che va al di là della politica.